L'occupazione delle camere d'albergo a Napoli è stata del 49% nel mese di agosto, un crollo rispetto allo stesso periodo del 2019 quando era del 79%, ma poteva andare anche peggio viste le premesse del mese di luglio che aveva fatto registrare il 30% dell'occupazione. Le notizie negative arrivano invece dal mese di settembre, storicamente uno dei migliori dell'anno da un punto di vista turistico caratterizzato da cancellazioni e poche prenotazioni. A scattare questa fotografia è stata Federalberghi Napoli. Oltre l'80% dei turisti in città quest'estate erano italiani e hanno soffrito del bonus vacanza, provvedimento che ha riscosso abbastanza adesioni, ma per valutare gli effetti benefici per il comparto alberghiero bisognerà aspettare la fine dell'anno. Anche la Fipe, con Massimo Di Porzio, ha commentato i dati della stagione appena trascorsa, una delle più travagliate degli ultimi anni. Sicuramente, anche per come ci siamo arrivati, perché al calo di fatturato di agosto si è aggiunto quello sicuramente di marzo, aprile, maggio, in cui c'è stato un calo del 100%, per così dire. I dati di Federalberghi sicuramente sono dei dati che fanno vedere il bicchiere mezzo pieno, per come dico io, però chiaramente la situazione è un po' a macchia di lopardo, per vari motivi. In primo luogo perché si parla di presenze, non si parla quindi di fatturati delle imprese. In secondo luogo perché è normale che nelle zone turistiche ci sia stata una ripresa un po' più importante rispetto a quelle che sono altre zone che invece purtroppo continuano a vivere una stagione di grandissima difficoltà. Io credo che sia molto importante anche per il futuro cercare di promuovere il nostro territorio, le nostre aziende. Io leggevo di un aumento dei contagi in Campania, la maggior parte sono tutti contagi di ritorno, tra virgolette, che dimostrano ancora una volta come le nostre aziende, da un punto di vista della sicurezza, abbiano applicato al 100% quello che è stato il protocollo di sicurezza. Quindi cerchiamo di chiudere la regione, che penso che sarebbe un'ulteriore mazzata per le nostre aziende. Io punterei molto su questa efficienza ed efficacia dei protocolli di sicurezza applicati alle nostre aziende e alla regione Campania.